Sì amore, ma chiedi alla mamma quale olio devo prendere? L'olio? Quello fatto con olive? Grazie, poi? Gli omogeniziati frutta? Ma tu hai sei anni! Tu prendili! Poi pelati, carne in scatola, 20 alti uniti di fagioli! Ma perché è tutta sta roba? È per il Banco Alimentare! Il 27 novembre partecipa alla giornata nazionale della colletta alimentare. Fai un gesto concreto per chi è in difficoltà. Allora prendo tutto e mi raccomando, dia alla mamma di farla anche online. Grazie a tutti!